Siena, si sa, è sempre stato poteso dal punto di vista dell'efficienza, dello smaltimento dei rifiuti. Ora Siena però si deve confrontare e deve stare insieme ad altre realtà che possono essere diverse, quindi questi interessi devono essere compensati. Qual è la vostra posizione? Come si procede? Anche perché lei è Presidente della Commissione Politiche ambientali dell'Anci, quindi in qualche modo è colui che può portare anche a livello regionale queste questioni nel dibattito. Dunque, in effetti sono diventato da pochi giorni Presidente della Commissione Nazionale Ambiente dell'Anci, che non tratta espressamente la questione dei rifiuti perché sta in un'altra commissione ma ovviamente è molto collegata. Mi sto rendendo conto, tra l'altro nella mia commissione sono le tematiche della protezione civile, del distresso etrogeologico, della difesa del suolo, anche di quanto siano diverse le situazioni in tutta Italia e il legislatore deve, ha a che fare con territori, regioni che hanno diverse velocità. In qualche modo l'esperienza della Toscana meridionale ha messo in evidenza tutte le problematiche relative alla scelta di metterci insieme partendo da storie diverse. La domanda provocatoria da farsi è oggi noi questa gara l'avremmo comunque fatta vista questa esperienza oppure no? Allora come diceva giustamente Bigno Bonifazzi, oggi io mi trovo qui a rappresentare interessi diversi. Sono socio della società che gestisce gli impianti, socio della società che gestisce la raccolta, oltre che lo smaltimento, prendendo il servizio dall'altra società. Sto insieme ad altri cento comuni dentro il consorzio che è lato che fa pianificazione degli investimenti e decisioni sulle tariffe. Sono cliente della società perché pago 14 milioni di euro di servizi fra cui quelli anche diretti del comune come lo spazzamento e inoltre rappresento le aspettative e gli interessi dei cittadini che hanno visto questo progetto favorevolmente ma sono rimasti in gran parte, e questo è dovuto anche a una cattiva informazione, scottati facendo ricadere il loro giudizio sulle amministrazioni di loro diretto riferimento dal fatto che le tariffe non sono diminuite come si aspettavano in seguito all'accorpamento delle aziende ma sono aumentate a livello diverso in tutto il territorio ma sono aumentate. Quindi il messaggio che è arrivato è che i comuni hanno fatto una cosa buona mettendo insieme e quindi in sicurezza un servizio però noi ci aspettavamo che si realizzassero rapidamente delle economie di scala che avrebbero prodotto un controllo dei costi e una riduzione delle tariffe. Quindi mentre ti approvano nel loro complesso sulla scelta non capiscono o giudicano negativamente dovuto questo anche a una cattiva informazione che in parte è legata al fatto anche che molti sindaci che abbiamo almeno i due terzi oggi non hanno vissuto l'esperienza precedente e quindi tutta la fase di impostazione della gara e quindi sono arrivati catapultati dentro questa nuova esperienza improvvisamente misurandosi con una realtà nuova senza aver vissuto i passaggi. Quindi i cittadini dicono e qualche volta credono, ripeto, una cattiva stampa che presenta questo mancato risultato dell'alleggerimento dei tariffe con un prodotto della cattiva politica di aver creato un carrozzone con troppi dirigenti o troppi amministratori che prendono troppi, diciamo, risoluzioni o remunerazioni troppo alte dicono avete tradito la nostra aspettativa senza portare a casa una riduzione delle tariffe. Inoltre io faccio la raccolta differenziata, soprattutto in quelle realtà dove la raccolta ha buoni risultati, ma non vedo il beneficio perché di nuovo il costo del servizio mi aumenta. Allora noi dobbiamo rispondere in modo chiaro perché, come ho detto stamattina quando ho fatto l'introduzione, noi abbiamo bisogno del consenso dei cittadini, non solo in generale perché siamo rappresentanti dei loro interessi, ma perché in un settore come questo, quello dei rifiuti, dal consenso dei cittadini passa la difesa di un modello che è quello di collocazione dentro il territorio degli impianti a Napoli. Ci sarà un problema di costo, ma gli impianti non ce li hanno accanto a casa e quindi loro non hanno il problema del consenso necessario per giustificare la realizzazione e il mantenimento degli investimenti sugli impianti lì. Noi abbiamo un problema diverso rispetto a tanti altri territori che portano rifiuti altrove, in altre regioni o in altri paesi. Noi dobbiamo conquistare ogni giorno il consenso delle persone perché, come diceva prima Bonifazzi quando parlava del piano interprovinciale dei rifiuti, noi dobbiamo giustificare e legittimare la scelta di tenere sul nostro territorio gli impianti, anzi di svilupparli rispetto al fatto di cogliere nuove opportunità dal trattamento dei rifiuti, possono derivare importanti risposte economiche sia sulla produzione di energia elettrica sia proprio sull'aggiunta ai servizi essenziali di servizi ulteriori non solo sulla produzione di energia ma anche sul riciclo per realizzare prodotti o materie che derivano dal recupero dei rifiuti. Quindi per noi il consenso dei cittadini è un elemento economico che consente di tenere in piedi e di sviluppare gli investimenti che stanno dentro la nostra area. Quindi io devo spiegare e finisco qui perché abbiamo queste tariffe, come si sviluppano gli investimenti e come cadono sulle persone e sulle aziende. Su questo, io l'ho già detto diverse volte, lo ripeto in questa occasione, all'azienda che ha vinto la gara e che teoricamente, formalmente anzi potrebbe dirmi, ascolto quello che dici ma non ti prendo in considerazione perché il servizio me lo sono aggiudicato attraverso una gara, come potrebbe avvenire affidando un asilo nido o un servizio di gestione di un museo, ho bisogno di tenere aperto un dialogo con un'azienda dentro la quale la presenza dei soci pubblici è ancora importante perché devo chiedere a loro uno sforzo sulla produttività e sull'efficienza che va oltre il capitolato di gara. Quindi se, come vedete, è un passaggio difficile perché la gara l'ho fatta, ha requisiti definiti, con un controllo da parte del lato, bene. Vi dico che dobbiamo andare oltre perché noi ci giochiamo sulla partita degli investimenti, del controllo delle tariffe, del rapporto con i cittadini e della qualità del servizio, un passaggio essenziale. Il consenso dei cittadini è un elemento economico nella vita delle aziende che noi dobbiamo gestire. Sapendo, e finisco qui, che il grande obiettivo che noi abbiamo in Toscana sarà quello di andare verso una società più grande che consenta a questa regione di non correre il rischio di farsi colonizzare da società esterne ma di avere una società propria che sappia dialogare con i territori e una volta terminato questo processo di costruzione di una grande azienda pubblico-privata regionale possa poi misurarsi anche con altri sfidi fuori dalla Toscana. Per far questo il consenso dei cittadini non è un elemento politico ma è un elemento economico perché consente di avere dalla nostra parte un punto essenziale per proseguire l'esperienza di sei e di dare a sei ancora nuove e più grandi ambizioni. Grazie.